Grazie ai fondi statali ottenuti con la partecipazione al bando Qualità nell'Abitare, al quale ha partecipato con Città Sant'Angelo e Silvi, il Comune di Montesimano ha ottenuto la somma di 5 milioni e 310 mila euro che una volta disponibili saranno utilizzati per due linee di intervento molto attese. 2,4 milioni saranno destinati alla riqualificazione del lungomare Viale Aldomoro con, tra le altre cose, sostituzione di arredi urbani ed eliminazione del muretto come nel tratto del Jova Beach Party. 2,8 milioni di euro per rimettere in sesto e poter riutilizzare Villa Delfico, un edificio storico che è nel cuore e nei ricordi dei Montesilvanesi ma che da anni è in abbandono, tanto da essere diventato meta di senza tetto con svariate operazioni di sgombero portate a termine dalle forze dell'ordine in passato. Entro tre anni Villa Delfico potrebbe tornare a nuova vita. Finalmente con queste risorse derivanti da un bando al quale abbiamo partecipato, peraltro raggiungendo il diciottesimo posto su 271, questa struttura non soltanto verrà restaurata ma verrà messa a disposizione della cittadinanza non soltanto per quello che riguarda la struttura stessa ma anche tutta l'area adiacente e retrostante. Un'area importante che vogliamo dedicare alla cultura e allo svago e in qualche modo farla diventare un polo culturale. Sicuramente ci sarà un ragionamento da farsi per quello che riguarda il restauro, tutti quanti siamo ovviamente d'accordo affinché si mantenga uno stato di cose il più possibile attinente a quella che era la struttura quando funzionava e per tutto il resto, per la destinazione e per quello che dicevo, soprattutto per quello che riguarda l'importante area retrostante faremo un ragionamento.